Polizia? Ma scusi un attimo, c'è nuova guerriglia in Corso Sardegna abbiamo di nuovo, c'è almeno le forze di polizia perché qua siamo in uno stato di nuovo di guerra. E penso che ci sarà la polizia in Corso Sardegna signora, e cosa ne pensi? Eh? Eh cosa dici, ci sarà. Vediamo perché stiamo di nuovo slasciando tutto, non è possibile. Ora provo a telefonare, vediamo se ci sono, ma io penso di sì comunque. Perché non è possibile, fermateli, è una cosa indecente. Va bene signora. Hanno di nuovo slasciato la banca che hanno appena chiuso ieri, dai su. Va bene signora, grazie, salve.